Grazie Alessandro per la linea e benvenuti a tutti i radioscoltatori di Radio Studio 107 Milano nello spazio quarta di copertina di Michi. Eccoci tornati a dare una sbirciatina alla classifica e vediamo insieme i libri più acquistati nel mese di maggio. Come sempre vi ricordo che facciamo riferimento alla classifica pubblicata da Filtrinelli. Al quarto posto, Residenza per Signore Sole di Masako Togawa. Un edificio per sole donne a Tokyo, un segreto dietro ogni porta, una chiave in grado di liberarli tutti. Ne avevamo già parlato e vorrei solo aggiungere ciò che dicono di questo romanzo. Un gioiello del mistero, il Times. Un intreccio eccezionale che si dipana in modo sorprendente come una matriosca, una vera delizia. Al terzo posto, Help di Antonio Manzini. Una donna picchiata dal marito, una violenza domestica negata dalla vittima. Il copione che troppo spesso precede un omicidio. Rocco Schiavone è tornato. A proposito, sapete per cosa sta Help? Esercito di liberazione del pianeta. Anche di Rocco Schiavone abbiamo recentemente parlato e lo potrete ascoltare insieme a tutti i miei podcast realizzati per Radio Studio 107 Milano collegandovi alla mia pagina YouTube Mi Vita 70. Al secondo posto, Violeta di Isabella Allende. Dicono di lei La penna di Isabella Allende è ricca, multiforme, sovraccarica di colore e dettagli, profondamente legata alla storia, nella quale cala la finzione dei suoi personaggi. Violeta è un romanzo appassionato che guarda dritto al nostro oggi. Siamo esseri imperfetti, inseparabili dal nostro mondo. Non esistiamo senza il passato e i suoi insegnamenti, perché siamo fatti dei nostri sentieri e di tutti i nostri legami. Francesca Cingoli Al primo posto, Tre ciotole rituali per un anno di crisi, di Michela Murgia. Un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. A volte a stravolgerla è un lutto, una ferita, un licenziamento, una malattia, la perdita di una certezza o di un amore, ma è sempre un mutamento d'orizzonte, delle tue speranze che non lascia scampo. Attraversare questa linea di crisi mostra che spesso la migliore risposta a un disastro che non controlli è un disastro che controlli, perché sei stato tu a generarlo. Sicuramente un primo posto, più che meritato, ma anche aspettato. Vorrei anche darvi un suggerimento che arriva dai libri più scaricati su ebook. Faccio riferimento al più scaricato che si trova al terzo posto, In amore vince chi rischia, di Anna Premoli. Rebecca è un avvocato di successo, vive a New York, in un piccolo appartamento a Manhattan. Rifugio serale dopo giornate di lavoro intenso, quando l'unico desiderio è staccare la spina e rilassarsi. Una persona accanto ogni tanto ci pensa, ma non è la sua priorità. E comunque dovrebbe essere come vuole lei, condividere i suoi interessi e avere i suoi stessi obiettivi. Essere simili e intellettualmente complici. Questo è, secondo Rebecca, il segreto per un'unione e duratura. Anche se gli appuntamenti con probabili anime e gemelle si rivelano sistematicamente dei flop, Rebecca non è disposta a cambiare idea né a scendere a compromessi. Ma le sue certezze cominciano a vacillare quando, una sera, alla porta di casa sua si presenta un pompiere, per prelevarla a forza dopo che lei ha deliberatamente ignorato un allarme antincendio. Anche questo mese ci sono state delle proposte interessanti, ma anche delle conferme. Quindi, che dire, buona lettura a tutti e a te, Alessandro.